Il vivere e l'abitare sopra un corpo mitico è una sensazione percepita in modo significativo nel vissuto quotidiano dei napoletani. Lo registra Lucio Saviani. Nella tradizione popolare, così come nelle espressioni della lingua napoletana, la stessa città è come un grande corpo. Il muoversi dentro Napoli si dice attraverso l'uso di particolari avverbi e preposizioni. Giù alla sanità, sopra il vomero, fuori alla caracciolo, giù in Napoli come si dice guardando e vivendo Napoli da posillipo. C'è sempre l'idea di muoversi su di un corpo e entrare e uscire da un corpo che sale e che scende. Il corpo di Napoli, così è chiamata ancora oggi, volgarmente, una statua raffigurante il fiume Nilo e situata nel centro storico della città, nella omonima Piazzetta Nilo. Sembra infatti che la statua che si presenta con la faccia di un vecchio barbuto, originariamente sia stata la raffigurazione del corpo di una sirena, a cui venne amputata la testa. Tutta la città sarebbe dunque adagiata, da oriente occidente, su questo largo corpo, la testa ad est, al centro il corpo, ad ovest i piedi. Ma questa è soltanto una delle innumerevoli leggende legate alla città di cui ci racconta Maurizio Ponticello, giornalista e studioso di tradizioni, nel suo libro Napoli, la città velata, un singolare percorso tra mito e simbologia, alla ricerca di un corpo sepolto da millenni. Lei si definisce un cercatore di radici, ma svegliamo subito questo mistero del corpo di Napoli. L'esatta edizione della piazza e largo corpo di Napoli, ancora oggi, è volgarmente chiamata Piazzetta Nilo, sostanzialmente quella. Questa statua che rappresenterebbe, probabilmente una statua alessandrina, rappresenterebbe Napoli con il corpo, i piedi a est a capo Napoli. Il corpo praticamente che dovrebbe essere il centro e il cuore della città è la testa a occidente. La testa a occidente è legata poi a un altro mito che è quello della grotta, la grotta di Virgilio. Quindi c'è tutto il collegamento tra Partenope e Partenias, che era un appellativo di Virgilio il verginello, cosiddetto, Partenope vuol dire la vergine. Quindi c'è tutto un collegamento simbolico che è anche poi nella toponomastica della città. Le due città, Napoli la greca e Napoli la romana, si fronteggiano nei secoli dei secoli. Ma secondo lei qual è la vera Napoli? La vera Napoli non è un confronto reale tra la Napoli greca e la Napoli romana, ma c'è un'identità. Del resto i colori di Roma sono i colori di Napoli. C'è quasi un cordone umbilicale tra le due città. Addirittura con il Fedus Napolitanum viene riconosciuta a Napoli la dignità di avere una lingua per cui il patto dopo la guerra con i Sanniti che viene fatto tra Roma e Napoli, identifica un'autonomia totale che dura fino quasi per 400, 500, 600 anni, quasi 800 anni addirittura se la portiamo dopo l'età del municipio. Le sirene di cui lei parla nel libro, originariamente erano rappresentate con il corpo che a metà era donna, per l'altra metà invece era uccello. Poi divennero donne pesce. Come è avvenuta questa trasformazione della sirena? La trasformazione della sirena da aviforme a pisciforme è un passaggio chiaramente epocale, anche se abbiamo tracce di sirene pisciforme in alcune zone tipo del Cretese, nella Grecia antica. Il passaggio è quasi simbolico. Da donna uccello incantatrice a donna sirena dei mari nefasta per i marinai. Lì poi diventa un facile attaccamento anche della chiesa dell'epoca che la condanna a donna di facili costumi, per cui la sirena era l'affascinatrice, l'ammaliante donna ingannevole e quindi era portata come una prostituta. Quindi è stato poi subito questo mito condannato, però è rimasta una tradizione marinara per secoli. Ancora oggi vive in qualche modo. Vi è a Napoli una statua particolare della sirena uccello alla cosiddetta fontana delle Zizze, in pieno centro storico. La sirena con ali e corpo di uccello fuoriesce dal cratere del Vesuvio. Che cosa rappresenta per la città? Rappresenta un simbolo che identifica la sirena come prima patrona della città. Ancora nel Medioevo la fontana, la cosiddetta fontana di Spina Corona o fontana delle Zizze, che rappresenta appunto questa sirena alata che si aggrappa con i suoi artigli al Vesuvio, a un Vesuvio in fiamme e con il seno scoperto e le mani a coppa che si tiene il seno usciva, oggi l'acqua non c'è, ma usciva questa acqua chiamata dagli alchemici lac virginist, il latte e la vergine. Era un latte fecondante da una parte e che poi spegneva il fuoco del sotterraneo. Questo poi è paragonabile, se vogliamo, anche con i patroni successivi che sono Virgilio che blocca in qualche modo la lava del Vesuvio, quindi protegge Napoli e così poi San Gennaro che è notissimo, insomma. Che arriva dopo Virgilio. Molto dopo Virgilio. Un autore fece di Napoli, lo stava appunto dicendo, il suo laboratorio sperimentale e questo autore fu Virgilio, il maestro di Dante. Ecco, qual è il nesso che lei ha trovato tra partenope, la vergine e Virgilio, il verginello? Virgilio era chiamato per la sua esile forma, ma non è solo questo, sarebbe riduttivo dirlo, per le sue caratteristiche di vergine come un concetto di pulizia, di chiarore interiore, di purezza, sicuramente. Era chiamato partenias. Partenias vuol dire appunto vergine come partenope. Il collegamento tra Virgilio poi e Napoli, Virgilio sceglie la città come suo laboratorio magico, infatti nella tradizione popolare non è soltanto lo scrittore, ma è bate, poeta e mago. Nel libro lei dice che Virgilio prima di San Gennaro fu il protettore della città, quindi prima l'abbiamo detto di San Gennaro, perché? Perché a lui ci si rivolgeva per ogni serie di problemi, catastrofi, dall'invasione delle mosche, all'invasione dei serpenti, all'apertura di grotte magiche per proteggere una malattia dei cavalli, insomma ogni tipo di problema della città c'era Virgilio che in qualche modo lo risolveva. Questo vogliono le leggende, le leggende sappiamo che non sono frutto di fantasia popolare, c'è sempre qualcosa di vero, e questa è la cosa intrigante, andare a capire al di là di quello che è l'aspetto superficiale di una leggenda, quello che nasconde il simbolo.